Si può sedere un uomo con i complimenti? Allora, bisogna tenere presente questo, che i complimenti gratificano la parte logica e quindi sicuramente la parte logica di un uomo è gratificata nel ricevere i complimenti. Però ovviamente i complimenti vanno a penalizzare un po' la parte emotiva fondamentalmente, in quanto la parte emotiva si nutre di tensioni emozionali, di emozioni, per cui il complimento di fatto toglie alle emozioni e quindi bisogna imparare a utilizzare un doppio sistema, dare e togliere, dare e togliere. Questo è la cosa fondamentale. Se noi dobbiamo sedere un uomo con i complimenti, dobbiamo prima dare e poi togliere. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Quindi una donna cosa deve fare? Il complimento gratificato, gratifica la parte emotiva. L'assenza del complimento, il complimento gratifica la parte logica, l'assenza del complimento gratifica la parte emotiva. Quindi un modo intelligente per dare dei rinforzi intermittenti, però, è quello di utilizzare alternativamente complimenti e assenza di complimenti. Quindi in questo modo si riesce a raggiungere un buon risultato. Perché quando tu dai, diciamo, un complimento, poi dopo gratifichi la parte logica e quando lo togli, quando non lo dai, gratifichi la parte emotiva. Senza penalizzare però la parte logica. Perché se tu utilizzassi, diciamo, una squalifica, un qualcosa di dire qualcosa di negativo, beh, la parte logica potrebbe risentirsi. Invece il trucco è quello di utilizzare il complimento e assenza di complimento. Perché in questo modo vai a, diciamo, a destabilizzare, diciamo, da un certo punto di vista, la parte emotiva. Quindi questo è quello che dovresti imparare a fare se vuoi conquistare, se vuoi sedurre un uomo utilizzando i complimenti. Il complimento va benissimo, va gestito nel modo corretto. Ovviamente non deve essere un complimento spropositato, se no sembra finto. Quindi il complimento deve essere reale, sincero su qualcosa che veramente ti piace, quindi vai a rinforzarlo. E ogni tanto l'assenza del complimento va a far sorgere dei dubbi e quindi seduce. Quindi questo è l'unico modo da utilizzare i complimenti per sedurre un uomo. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, seguimi su Instagram, Massimo Terramasco, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, Massimo Terramasco, crescita personale, felicità benessere, nuovissimo canale esoterismo e spiritualità con Massimo Terramasco. Su tutti i canali ti puoi anche abbonare. Ciao a tutti e al prossimo video.